La creatività dell'amministrazione di Castelletto Monferrato e degli enti di questo paese fa sì che una delle tradizioni più importanti a livello culinario del paese, cioè la Sagra della Zucca, non si interrompa neanche quest'anno nonostante l'emergenza coronavirus. Sindaco Gianluca Colletti, come siete riusciti a proseguire la Sagra della Zucca anche quest'anno? Noi siamo convinti che le tradizioni siano importanti e quindi bisogna portarle avanti. Abbiamo pensato con le nostre associazioni, che viviamo in simbiosi, ma ovviamente all'interno del nostro territorio, di provare una forma diversa, quindi di portare il nostro prodotto tipico gastronomico di Castelletto Monferrato, la lasagna di zucca, direttamente a casa dei nostri cittadini con un servizio take away. Allora lì sono andate un po' tutte le idee, abbiamo creato una fascetta ad hoc per il confezionamento, ovviamente diciamo così anche promozionale, dove all'interno si può trovare con un codice QR, si ha la possibilità ovviamente di andare a consultare quella che è la ricetta. La ricetta che è prossima per avere la dominazione comunale di origine del prodotto, quindi la DECO, nel mese di settembre porteremo il regolamento in consiglio comunale e quindi provvederemo, diciamo così, a certificare l'originalità del nostro prodotto del territorio. Un ringraziamento sicuramente va alle mie associazioni del comune, la Proloco di Castelletto, la Soms e l'Aido, che non ci hanno pensato due minuti e sono venuti dietro ovviamente a questa bellissima idea. Diciamo che stiamo concludendo un obiettivo che c'eravamo preposti all'inizio del mio mandato elettorale con il mio gruppo consigliare, quello di regalare a Castelletto un prodotto tipico. Ecco, oggi lo facciamo in toto perché in realtà diamo la possibilità non solo in maniera takeaway ma anche al mercato del martedì ai nostri compesani di venire a acquistare la nostra lasagna di zucca e questo corona un po' un sogno, quello di poter promozionare finalmente un prodotto gastronomico di Castelletto Monferrato. Ci siamo sperimentati anche nel mercato di martedì scorso e del prossimo martedì, vale a dire primo settembre, c'è stata tantissima partecipazione di Castellettese e non solo di Castellettese. Questo ci fa enormemente piacere perché tutti insieme siamo consoni appunto delle nostre capacità, del nostro modo di agire, della nostra volontà di credere in quello che facciamo, di mantenere appunto una tradizione che è appena nata, si può dire rispetto ad altre realtà, che però ci ha visto già partecipi con la cittadina di Piozzo nel Cuneese, ci siamo gemellati nel 2018, ottobre 2018, abbiamo appreso tante tecniche, tante affinità e tante esperienze che ci hanno portato chiaramente ad andare avanti con questa sagra e magari farla diventare una sagra ancora molto più importante. Chiaro che è l'unico auspicio di tutti che si possa il prossimo anno magari ritornare a farla con la partecipazione proprio della popolazione, in una location centrale del nostro comune, perché il contatto appunto con le persone è consono a tutti noi. Grazie